Sulle note del silenzio Palermo ha ricordato il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa con una cerimonia davanti al luogo in cui venne ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982 con la giovane moglie Emanuela Setti Carraro e con l'agente di scorta Domenico Russo. In via Isidoro Carini insieme al ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri e al sindaco di Palermo Leoluca Orlando c'era la figlia del generale Rita Dalla Chiesa. Venendo a Palermo tutti gli anni per qualche giorno durante Santa Rosaria in luglio quindi poco alla volta, poco alla volta, poco alla volta ho ricominciato a prendere fiducia in questa città ho continuato a venire a Palermo, tutto qua e adesso ci vorrei vivere. Per l'omicidio del generale venuto dal nord per combattere la mafia sono stati condannati all'ergastolo come mandanti Boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenne Geraci.